sembri molto magro ti sei dimagrito? sono ingrassato mi sento grasso mio fratello non è forte per niente mia nonna è molto debole sono più alto di mio padre mio zio è davvero basso mia madre ha i capelli biondi e ricci mia sorella ha i capelli rossi e lisci lui di che colore ha gli occhi? lui di che colore ha gli occhi? ha gli occhi scuri e i capelli scuri ha gli occhi scuri e i capelli scuri mio cugino ha la pelle chiara mio cugino ha la pelle chiara il bambino è bellissimo il bambino è bellissimo mia moglie è veramente bella mia moglie è veramente bella quella ragazza è bellissima quella ragazza è bellissima è un po' brutto mio marito è molto muscoloso mio marito è molto muscoloso lui è il ragazzo con i capelli lunghi lui è il ragazzo con i capelli lunghi lei ha la ragazza con i capelli corti lei è la ragazza con i capelli corti il tuo cane è molto carino il tuo cane è molto carino lui ha una casa grande lui ha una casa grande quel gatto è enorme quel gatto è enorme abita in un piccolo appartamento abita in un piccolo appartamento la camera dell'abergo è molto piccola la camera dell'abergo è molto piccola la mia vecchia macchina era molto lenta la mia vecchia macchina era molto lenta questo treno è veramente veloce questo treno è veramente veloce la sua ragazza è abbastanza timida la sua ragazza è abbastanza timida il suo ragazzo è molto ricco il suo ragazzo è molto ricco tu sei molto più estroverso di me tu sei molto più estroverso di me i miei genitori sono poveri i miei genitori sono poveri tua zia fa ridere tua zia fa ridere sei molto coraggioso sei molto coraggioso questo gioco è molto divertente questo gioco è molto divertente Questa puntata televisiva è noiosa. È semplicemente pigro. Questo autobus è sporchissimo. Mi piace tenere la casa sempre pulita. Lui ha i figli piccoli. I miei nonni sono anziani. I miei nonni sono anziani. Quanti anni ha tuo nonno? Quanti anni ha tuo nonno? Mia nonna ha novantaquattro anni. Quanti anni ha tua figlia? Ha diciassette anni. Ha diciassette anni. Mio figlio ha sedici 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 anni. Ueno. Grazie.